Ciao ragazzi sono Bembe e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale e quest'oggi ragazzi siamo tornati qui con la reazione alla fatidica partita Juventus-Inter, quest'oggi si gioca all'Allianz Stadium, quest'oggi obbligatori i tre punti contro gli acerrimi nemici dell'Inter, della squadra di Milano e direi anche della seconda squadra di Milano comunque prima di iniziare il video ragazzi, come al solito lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale se ancora non avete fatto e attivate anche la campanella vicino al tasto iscriviti così vi arriveranno anche le notifiche ogni qualvolta caricherò un nuovo video ed inoltre ragazzi mi raccomando come state vedendo e come ogni volta scaricate l'applicazione OneFootball l'applicazione che vi permetterà di rimanere sintonizzati 24 ore su 24 sulla vostra squadra del cuore e non solo, su tutti i campionati su tutti davvero le partite in tempo reale e anche ovviamente su tutte le notizie di calcio mercato eccetera ragazzi scaricatela, quindi ragazzi detto questo io vi lascio alla reaction vi auguro una buona visione e sempre forza Juventus fino alla fine vai 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 Non è un volo, una tantana Non è un volo mamma 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 santa la marca oh sveglia Pietro a posto meno male che c'ha le zappe davanti al portier non è neanche capace a segnare per Caparo si per i tratti, Cansello, Chiellini Boluce mamma mia mamma mia ma parto adesso parto madonna buona ma stiamo scherzando ma nessuno ma nessuno che voglia togare sta merda di palla voglio vedere se non ho visto l'attenzione a Cansello che parte in posizione regolare in dettra di tagliare la mezzo dal centro Cansello c'è Caspansu per il cross nel 2 e mezzo per Delacross Stacca Mario 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 Lui non vince! Quanto meno te lo aspetti! Lui non vince! Quanto meno te lo aspetti! Lui non vince! Quanto meno te lo aspetti! Mazzucchi! Mazzucchi! Quando meno te lo aspetti! Grande! Rartiglio che graffia! Rartiglio di Mazzucchi! Il Super Mario! Mario! Coppa Greco! Ti faccio la del cuore! Marione! Non possiamo mai il compito di Mazzucchi! Marione! Mario Mazzucchi! Mario Mazzucchi! Mario Mazzucchi! Mario Mazzucchi! Mario Mazzucchi! Mario Mazzucchi! Dai 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 cazzo! E' pure la nostra stilazione! Non è male! Uno! Bravo! E' finita eh! Si! Si! Uno! A zero! Si! Record europei! Ciao Loris! Ciao Loris!